Capiti come l'ultima tappa che uno me la sciorinate tutte e tre, togliendomi qualsiasi suspense. Il terzo! Se posso avere anche proprio il silenzio, DJ Padrino, posso avere il silenzio? Pare proprio che sia il silenzio, ok, perché è importante, anche delle luci molto soffuse. Un momento difficile. Kruger-Pritz, cerchiamo di non buttarla in burletta, cortesemente, perché è un momento importante. Anche stessa cosa per te, Lorenzo. Il terzo! Classificato! Della sesta! Tappa! Dell'edizione 2011 di Solisti in Tour, tappa tenutasi oggi, 26 agosto 2011, alle stands di Seguals, in provincia di Pordenone, è... Potrò fare un po' di suspense anche io, eh? Guarda, ti dico sempre di non tenermi sulle spine perché non faccio il barista. Il terzo classificato è... Agostino Poggio. Agostino Poggio, qui sul palco! Ehi, campione! Te lo sei meritato! Bene! E, DJ, padrino, se posso avere silenzio? Prima di annunciare il secondo vorrei, tra l'altro, ringraziare coloro che hanno consentito di realizzare tutto questo. Ovvero io, i miei genitori, no scherzo, il patron, ideatore, tutto di questa manifestazione, Giuliano Biasin. La regia, Roberto, che ci consente, ogni cappa, di vedere sullo schermo quello che sta accadendo. Poi, Mr. DJ padrino. Cresi Lorenzo. Mr. Zugger Pritz. Azzurra Miotto. Matteo Polo. Giulia Daici. Ritorniamo con posti. Il secondo, classificato, è Michela Franceschina. Michela Franceschina! Ciao, Michela. Complimenti, è una notte magica, non solo per te, credo. Anche per me. Eh, fantastico. Sono veramente felice del tuo secondo posto. Anch'io? Dopo il primo nel mio cuore, nel secondo posto qui. Fantastico, vieni, vieni anche tu qui. Ok, qui, qui, accanto ad Agostino. E adesso è arrivato il momento quello duro, quello difficile, se possiamo fermare la musica, abbassare le luci anche. non è per niente facile, non è per niente facile, ma farò del mio meglio. A volte è difficile esprimere un concetto freddo, qual è così, una classifica, quando la voce, come la mia, è rotta dall'emozione. Tuttavia, essendo io un umile pastore nella vigna del Signore, al pari di Benedetto XVI, ma a giudicare della vostra risata già l'avevate capito, sono costretto al suo nome in questa responsabilità. Il primo classificato è... Thomas Camillot. Thomas Camillot! Dov'è Thomas Camillot? Eccolo qua! Grande Thomas! Grazie! Cosa vuoi dire al pubblico che ti ha votato? Chiedete perché non mi ha votato. Ah già, è vero! Cosa vuoi dire alla giuria che ti ha votato? Grazie! Grazie! Ok, amici, noi vi salutiamo. Il battello sta per prendere il largo! Noi ci rivediamo, se lo volete, se ne avete voglia, domani, sabato, 27 agosto, a Maniago, nella grande piazza Luigi XVI di Maniago, a partire dalle ore 20 e 30. Il battello Love Boat sull'Istituto 2011 sta per partire! Ciao! Noi! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti